Ma che si strilla questo? Il signore Donchilone mi parece che sta muy solo su letto. Creo que voy a hacerle visita esta tarde. Pronto? Pronto, si. Si, un annuncio, per l'annuncio, si. Si busca accompagnante terapeutico. Pronto? Mi sente? Si, si. Si, un accompagnante terapeutico per persona inferma. Inferma, si. Infer... e checa. Mi sento mi sento? Mi sento? Si. No, mi sento? Quando ti ho? No. Quedan 3 annuncios. Son Los ultimos 3. Mi aca, repetir. Che se quedate la ascensore. Estai subiendo a los ultimi 17 pisos. No puedo mas. Si, ma che era. Llamo a los ultimos 3 avisos. Dale. Ves. Listo. No, 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 non è il momento adesso, non è il momento che devo finire questa composizione in spagnolo, che non è il momento, adesso, ora, che non mi interrompano perché devo finire, perché, dai, dai, basta.